buongiorno ragazzi come state benvenuti in un nuovo video oggi parliamo di un software gratuito esiste sia la versione gratuita sia la versione pagamento che si chiama Tutoredattilo come potete vedere dal sito web che vi lascio in descrizione questo software si occupa di dittalografia la dittalografia come vedete qui è una disciplina che è stata dimenticata e si occupa appunto dell'uso della tastiera e qua dice proprio oggi che l'uso della tastiera giustamente è diventato comune e necessario praticamente a tutti quindi a parte il sito che è ricco di cose insomma guardate ricco di spunti suggerimenti vedete comunque il software ci permette di imparare la tecnica della digitazione a dieci dita quindi scrivere con dieci dita quindi questo questo che cosa porta porta dei vantaggi notevoli nel senso che uno siamo più produttivi scrivendo a dieci dita siamo più veloci siamo più consapevoli di come la tastiera è fatta e poi porta anche a parer mio dei benefici a livello di salute perché comunque la schiena rimane più dritta gli occhi rimangono all'altezza dello schermo sia che abbiamo un pc fisso sia che abbiamo un pc portatile e quindi ci sono tutta una serie di benefici da non sottovalutare cercando di imparare appunto la scrittura con 10 dita oltre a imparare a scrivere con 10 dita questo software può essere utilizzato da tutti per essere più consapevoli di come la tastiera è fatta anche da un bimbo per dire ci saranno anche dei giochini con i quali appunto possiamo imparare dove sono i tasti possiamo essere più veloci anche come dire se si scrive con due o tre dita nella ricerca del tasto sapere già dov'è avere già un'idea di come la tastiera è fatta andiamo quindi sul menu io vi faccio vedere la versione gratuita che è quella che ho scaricato tutt'ora dati lo 7 facciamo un click eccoci qua come vedete i requisiti minimi sono molto modesti al 99 per cento dei casi potete installarlo senza problemi che dire potete vedere anche degli degli screenshot del software se volete vedere come è fatto vedete questa cosa qua comunque adesso lo avvierò e quindi capirete di cosa stiamo parlando può essere scaricato anche per mac e per ambienti linux scegliete la versione che più preferite con vedete abbiamo diverse tastiere tastiera italiana tastiera francese tastiera americana tastiera tedesca e tastiera del belgio questa è l'icona di tutore datilo nella versione della tastiera italiana quella che quella che ho io adesso avviamolo facciamo quindi un doppio clic sull'icona di tutore datilo ed eccolo qua che mi dice scrivi il tuo nome io metto infoghira eccoci qua poi se io voglio che quando il programma si riavvia ricorda già che io mi chiamo infoghira allora punto questa casellina qua ricorda il tuo nome al prossimo accesso poi clicchiamo su ok allora qui ci da una sorta di guida ci dice ciao infoghira per iniziare scegli gli esercizi scegli il livello di difficoltà e premi il pulsante invio selezione della lista il file con cui esercitarsi allora come vedete gli esercizi sono delle frasi interne quindi delle frasi che noi possiamo scrivere o con dieci dita secondo questo schema che adesso vi spiego oppure con due o tre dita insomma per allenarsi con la scrittura di queste frasi poi abbiamo un corso datilo che è quello più indicato che diciamo è un vero e proprio corso di datilografia cioè che insegna adesso lo vedremo faremo proprio questo attraverso la posizione delle dieci dita insegna a ricordarsi dove sono tutte le letterine diciamo così e poi ci sono i file di testo c'è degli interi testi da copiare poi ci sono degli esercizi e poi ci sono c'è anche un modo che vabbè adesso non sto a farvi vedere perché comunque il software è molto completo però se la cosa vi interessa chiedetemelo e ne parlerò di poter creare i propri testi c'è tutto redattilo a un editor interno con il quale io posso creare i miei testi da poi da poi fare come come esercizio quindi cominciamo direi a provare il corso datilo quindi faccio clic su corso datilo e la difficoltà è principiante vedete che come file qua mi dice 01 cioè imparerò questo file tratterà della lettera sdfjkl e ho accentata allora come funziona praticamente come vedete da questo schema qui sotto per poter scrivere con dieci dita io devo mettere l'indice della mano sinistra sulla f e l'indice della mano destra sulla j ok in questo caso notate già che se per esempio voi siete destri avrete la mano sinistra che rimane sempre sulla nella posizione quindi asdf eccetera eccetera quando poi dovrete usare il mouse quando imparerete a scrivere con dieci dita la mano sinistra rimane lì e la destra va a muovere il mouse così insomma siete già pronti avete una mano se siete mancini al contrario comunque andiamo avanti mettiamo appunto le mani come ci dice tutto redattilo e poi dobbiamo cominciare prima però vi faccio una premessa lo spazio qua dice che va fatto con i pollici chiaramente allora la regola diciamo così ad hoc sarebbe che se io l'ultima lettera che ho premuto prima di fare lo spazio l'ho fatta con la mia mano sinistra allora lo spazio viene fatto col pollice della mano destra se l'ultima lettera che ho premuto invece è stata fatta dalla mia con una lettera che ho premuto con la mano destra allora lo spazio lo faccio col pollice della mano sinistra questa è la regola chiamiamola d'oro per fare lo spazio in maniera corretta poi chiaramente all'inizio vedrete che non verrà insomma così automatico bene adesso cominciamo quindi abbiamo selezionato corso dattilo che è il corso insomma quello completo di dattilografia che gratuitamente Tutore Dattilo ci offre e quindi premiamo il tasto invio come vedete Tutore Dattilo ci fa vedere in alto una sorta di frase da copiare vedete F F F F J J J J J e avanti così e noi praticamente adesso vedete che Tutore Dattilo ci indica in eretto la F e ci seleziona in rosso il dito indice perché noi dovremo premere diciamo il tasto F se vogliamo scrivere con 10 dita appunto con il nostro indice proviamo F F F F spazio con la mano destra perché questa era di sinistra J J J J J ho fatto un errore spazio con la mano sinistra F F F F spazio con il pollice di destra J J J J J J e così via no? io adesso cerco di completare vedete che quando sbaglio vedete che mi fa anche questo suono per farmi capire che c'è stato un errore adesso sto accelerando un po' eh giusto per farmi vedere come funziona ecco vedete ho finito mi dice i punti digitando la media di 163 battute al minuto come vedete qui sotto mi segnava la velocità quindi da un po' questo sarà tipo una lepre non so da veloce a lento come una lumaca pian piano uno si allena e avanti così quando è finito un esercizio si preme il tasto invio e tutto redattilo passa direttamente al successivo vedete F F J J J J J F F avanti così scusate ho sbagliato a toccare F F J J J J J J F F e avanti così adesso vabbè io fermo l'esercizio che aspettate non mi ricordo più qual è il tasto ecco vedete abbiamo finito questo esercizio sono andato un po' peggio di prima nel senso che ho fatto meno punti però comunque questo è questo è il corso poi potete scegliere dai vari file adesso vi faccio vedere ecco vedete ho trovato il tasto nel frattempo con questa freccetta qua ricomincia da capo riavvia il programma in maniera tale che voi possiate ritornare al menu e scegliere vedete che corso dati lo abbiamo altre possibilità una volta che ho finito questa cosa qua vado al passo 2 al passo 3 al passo 4 per fare tutte le lettere e tutti i numeri con questi tasti posso vedete in questo caso abilita o disabilita i suoni non fa vedere la visualizza o nasconde la mappa dei colori quindi ogni dito che cosa deve fare cambia il colore dello sfondo addirittura vedete quindi è personalizzabile anche a livello di estetica è una cosa carina e poi allora proviamo a vedere per esempio allenamento e gioco che è quella categoria di esercizi che potrebbero fare per esempio dei bimbi che vogliono imparare appunto scrivere con la tastiera vedete che come ho cliccato viene fuori allenamento su cosa ti vuoi allenare su queste categorie di lettere quindi A, S, D, E oppure tutte quante le lettere come questa qua alla fine oppure vuoi un gioco personalizzato proviamo a mettere la prima opzione poi qua ti dice vogliamo la velocità il tempo possiamo variarlo e noi lasciamo tutto invariato vediamo cosa succede la difficoltà di gioco mettiamo facile all'inizio e poi premiamo su start quello che dobbiamo fare come vedete è premere tutte le letterine prima che in questo caso scendano facciamo per esempio proviamo a farne scendere una se riusciamo per vedere allora per esempio Y, Z, R, X, P poi da T non la trovo vedete che pian piano scende e me lo da come come errore perché è una lettera che che ho perso e i giochi diciamo sono questi bene ragazzi questo era tuttore dattilo nella versione free nella versione gratuita adesso sta a voi esplorarlo capire se se per voi è una buona cosa investire nella versione a pagamento guardate le differenze sul sito c'è scritto tutto molto molto chiaro vi lascio tutto in descrizione a per par condicio vi dico che come al solito non me ne viene nulla in tasca nel mostrarvi questo software e solo per farvi vedere una possibilità avrei potuto benissimo farvi vedere qualche sito online che offre questo tipo di di allenamento di di scrittura con la datilografia però io mi trovo bene con questo software e mi piaceva mostrarvelo sappiate che una volta fatto il download potete anche decidere non siete obbligati ma potete anche decidere di fare una donazione per supportare la comunità che sta dietro gli sviluppatori tutto quanto tutto il team che sta dietro questo software questo era tutto redattilo io spero come sempre che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un mi piace o lasciate non mi piace insomma fatemi sapere che cosa ne pensate lasciate commenti insomma parlate un po' anche di come scrivete voi scrivete con 10 dita o scrivete con 2 o 3 dita o avete provato era troppo difficile come come siete messi fatemi sapere un po' di cose se è la prima volta che state guardando un mio video vi prego di iscrivervi al canale perché mi fate capire che posso andare avanti mi fate capire che quello che sto facendo serve mi date la forza l'energia come dico sempre per andare avanti che dire se volete attivate anche la campanellina una volta iscritti che vi avviserà in automatico quando Infoghira pubblicherà un nuovo video youtube tramite una notifica e addirittura via mail vi avviserà detto questo io vi saluto e ci sentiamo alla prossima ciao ragazzi che